Il progetto Life You Save Reds è un progetto impegnato in prima linea per la salvaguardia della biodiversità e in particolare il protagonista di questo progetto è lo scoiattolo rosso, l'unico scoiattolo arboricolo naturalmente presente in Italia la cui conservazione è attualmente minacciata dalla presenza di una specie aliena invasiva che è lo scoiattolo grigio nordamericano. Quindi il progetto Life You Save Reds è proprio in prima linea in azioni concrete di conservazione dello scoiattolo rosso che passano attraverso la gestione delle popolazioni di scoiattolo grigio ma anche attraverso interventi di miglioramento degli habitat e di restocking di rinforzo delle popolazioni di scoiattolo rosso che è un tassello fondamentale della biodiversità dei nostri boschi che svolge da noi un ruolo insostituibile come appunto tassello della nostra biodiversità e che quindi contribuisce al mantenimento di tutti i nostri servizi ecosistemici.